ciao a tutti nel tutorial di oggi vediamo come fare questa nuova mattonella ad uncinetto si chiama block stitch e alterna due giri di triplette di punti alti esattamente come nella mattonella granny square e giri di punti bassi e catenelle lo schema è super semplice si ripetono sempre gli stessi due giri e quindi non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera iniziamo facendo un nodino iniziale lavoriamo 4 catenelle e le chiudiamo in cerchio con un punto bassissimo nella prima catenella lavoriamo tutto il primo giro nel cerchietto se preferite potete lavorare l'anello magico iniziamo lavorando tre punti alti sostituiamo il primo con un punto basso e una catenella e ne lavoriamo altri due due catenelle e questa è la ripetizione che ripetiamo per quattro volte in totale tre punti alti due catenelle e alla fine chiudiamo con un punto bassissimo nel primo punto alto del giro che è quello che abbiamo sostituito con un punto basso e una catenella facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo prepariamo un nodino iniziale con il filo di un altro colore e lavoriamo in uno degli archetti d'angolo uno qualunque e qui lavoriamo un punto basso poi lavoriamo due catenelle e passiamo al prossimo archetto d'angolo e qui lavoriamo un angolo che nei giri di punti bassi è fatto di un punto basso due catenelle un punto basso e ripetiamo due catenelle un angolo un punto basso due catenelle un punto basso e ripetendo in questo modo completiamo tutto giro e quando possibile nascondiamo le codine di filo attraverso i punti alla fine completiamo anche il primo angolo in cui avevamo lavorato solo un punto basso lavorando un punto basso e due catenelle e chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo punto basso facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo nel prossimo giro lavoriamo di nuovo un giro di triplette di punti alti iniziamo da un archetto d'angolo e qui lavoriamo tre punti alti sostituiamo il primo con un punto basso e una catenella e ne lavoriamo altri due in questo giro abbiamo anche un archetto sul lato del quadrato un archetto di due catenelle in ogni archetto di due catenelle lavoriamo tre punti alti in questo caso abbiamo solo un archetto e quindi lavoriamo tre punti alti nell'archetto e arriviamo all'archetto d'angolo nei giri con triplette di punti alti nell'angolo lavoriamo sempre tre punti alti due catenelle tre punti alti e ripetiamo in questo modo per tutto il giro nell'archetto che abbiamo sul lato lavoriamo tre punti alti e in ogni archetto d'angolo lavoriamo tre punti alti due catenelle tre punti alti e alla fine completiamo anche il primo angolo qui avevamo lavorato solo tre punti alti e quindi nell'archetto d'angolo lavoriamo tre punti alti i due catenelle e chiudiamo al giro con un punto bassissimo nel primo punto alto del giro facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo se mentre lavoriamo nascondiamo le codine di filo sarà più veloce poi nasconderle definitivamente con lago o con questo attrezzetto in questo tipo di schema alterniamo sempre un giro con triplette di punti alti e un giro di punti bassi quindi nel prossimo giro lavoriamo di nuovo un giro di punti bassi iniziamo sempre da un angolo e qui intanto lavoriamo un punto basso qui lavoriamo anche sul lato quando lavoriamo giri di punti bassi sul lato lavoriamo un punto basso tra ogni tripletta del giro precedente e separiamo sempre con due catenelle quindi lavoriamo due catenelle un punto basso tra le triplette del giro precedente 2 catenelle un punto basso tra le triplette del giro precedente 2 catenelle e arriviamo all'angolo nell'angolo nei giri di punti bassi lavoriamo sempre un punto basso 2 catenelle un punto basso e questo è quello che lavoriamo nei giri di punti bassi negli angoli lavoriamo sempre un punto basso 2 catenelle un punto basso e sul lato lavoriamo un punto basso tra le triplette del giro precedente e separiamo sempre i punti bassi con due catenelle e lavorando in questo modo completiamo tutto il giro e alla fine completiamo anche il primo angolo lavorando un punto basso 2 catenelle e chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo punto basso facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo per proseguire e quindi ingrandire la mattonella dobbiamo solo ripetere gli ultimi due giri che abbiamo lavorato insieme alternando un giro di triplette di punti alti e un giro di punti bassi l'unica cosa che cambia è il numero di ripetizioni che abbiamo sul lato nel prossimo giro per esempio lavoreremo di nuovo un giro di triplette iniziamo con mezzo angolo esattamente come abbiamo fatto nel giro 3 e poi lavoriamo una tripletta di punti alti in ogni archetto di 2 catenelle e nel prossimo giro vediamo che ne abbiamo 3 1 2 3 poi lavoriamo angoli negli angoli lavoriamo tutto il giro e completiamo l'angolo come abbiamo fatto nel giro 3 e poi lavoriamo di nuovo un giro di punti bassi esattamente come abbiamo fatto nel giro 4 con l'unica differenza che ci saranno più triplette e quindi lavoreremo più volte due catenelle un punto basso per lavorare il lato e in questo modo possiamo andare avanti e ingrandire la mattonella quanto vogliamo oppure possiamo fare più mattonelle e cucirle insieme come per ogni altro tipo di mattonella e per cucire le mattonelle tra loro ho fatto diversi tutorial in cui vi mostro vari metodi sia con l'uncinetto che con l'ago tutti i link li trovate nella descrizione del video e anche per oggi abbiamo terminato spero tanto che questo tutorial vi piaccia e che vi possa essere utile per fare cose meravigliose se vi è piaciuto il tutorial non dimenticate di farmelo sapere regalandomi il vostro like oppure scrivendo un bel messaggio qui sotto il video e scrivetemi anche cosa vi piacerebbe fare con questa mattonella a me piacerebbe tanto fare un cuscino oppure mi piacerebbe modificarla un po e farne un sottotazza ma aspetto di sapere cosa fareste voi con questa mattonella ringrazio quella di voi che mi ha richiesto questa mattonella di cui purtroppo non ricordo il nome scusami perché questo tutorial è nato grazie a lei se avete richieste quindi fatemele io volentieri se posso via contento come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio ciao